2-6 In tre minuti la mia gente avrà già fatto irruzione, verrete uccisi tutti quanti. Ho scelto di catturarti vivo, ma posso sempre cambiare idea. Avete sbagliato persona. Menti! Digli cosa hai fatto. Non abbiamo rubato il gas. Chi allora? Qualcuno molto pericoloso. E dov'è? Mi piacerebbe saperlo. Il macellaio è lì fuori. Bruceranno la città se devono. Puoi salvarti, figlia mia. Unisciti a noi. Non rivolgerle la parola! Ehi! Andiamoci piano, va bene? Io non sono tua figlia, vecchio. Io guido soldati, tu assassini. Ma siamo tutti assassini qui, no? Sono entrati. Dobbiamo muoverci ora. 3-1-2-6, ingaggio avvenuto. Portiamo al sicuro il V. Ok, 3-1. Bravo, in posizione. Pronti all'evacuazione. Ah, adesso arriva l'elecottero Ubisoft. Questo l'abbiamo visto ieri. 1 seconda. Gruppo dei gnoti in movimento al cancello principale. Katara è lì sotto. Hanno chialato il perimetro. Portasi sul tetto. Riccivuto. Dobbiamo raggiungere Eco in fretta. Poco saranno nei guardi. Sparano! RPG! Tutto ok? Sto bene. Ecco 3-1, estrazione principale fallita. Siamo sul tetto. Ricevuto. Che si fa, capitano? C'è una camera di sicurezza nel semi-interrato. Dirigetevi lì. Vi seguiamo. Ricevuto. Ci muoviamo. Ah, sì. Quindi adesso l'obiettivo è andare nella camera di sicurezza. Mentre ci stanno praticamente devastando l'ambasciata. Quindi non so come faremo a resistere, però... C'è Price. Raga, Price ne sa. Quindi... Civili, signore. Vediamoci che vedevo di... Sì. Sì. Siamo alla squadra di estrazione. Non per voi. Voi potete anche morire. Apri la porta, dopo chiudila. Ah, scusa. Stavo andando lento io, Price. Arrivo, arrivo, Price. Vabbè, volevo chiudere la porta, ma... Ah, ok, si chiude da solo. Ma perché lui ha il fucile e io ha la pistoletta? Vorrei anche io un fucile. Hai capito. Ciao Paolo, bella sine. Ciao raga. Perché devo andare sempre avanti? Ho la pistola, ti ho detto. Tu, apri subito. Tutti indietro. Togliamo solo il lupo. Nessun altro deve morire oggi. Chi ha una testa? Io. Che dici, capitano? Vuoi lasciarli morire? Bobo, Bobo. Sì. Che devo fare? Apro? Apro? Non apro. Eh, la tanto l'avrebbe ucciso lo stesso. Stardo. Dove è andato? Ma sbaglio, è sparito. Ah no, è entrato nel buco nero della porta. Oh, mi hanno bloccato, raga. Eh, raga, permesso. What the fuck? Cos'è sta sto? Stanno a fa? Sì, due sono uguali poi, guarda. Mantenete la posizione e la calma. Ecco qua. Bastava indietreggiare un pochino invece di stare lì a prendere colpi a buffo. Dunque il capitano Price non spara un colpo, raga. Vogliamo il lupo, portate. Ma sti vetri tutti antiproiettili so dentro sto palazzo. Mamma mia, comunque... Già, esperto ti fanno un sacco male, eh, raga. La cappa è sempre la cappa, raga. Andiamo nel semi-interrato, Kai. Va avanti. È chiusa! Sono io. Bella Gursed. Urca. Ah, ok, ci pensa lui. Addirittura un'accettata. Price. Sei veramente cattivo. 3-1. Siamo nel semi-interrato. Sono esposti! Fate attenzione, ci sono ostili all'esterno della camera di sicurezza. Ci siamo noi. Ma si è andata, chi è andata! Non stagli! Non stagli! Sargente, avvisiamoli che siamo qui. 3-1, siamo qui. Bella Bottons. Ciao! Perché Thor lo aveva messo, il messaggio sopra. Aspetta, dimmi. Di usare lo statsbots, ma è admin only. Ecco perché non lo conoscevo. Ah, ok. Capito. The Wolf. Niente signore. Omar Sulamana. Ci conosciamo. Quando eri dalla nostra parte. Il lupo era un ribello. Lo sono ancora, fratello. Gli uomini del macellaio sono vicini all'ambasciatore. Ok. Kyle. Le telecamere. Porta in salvo l'ambasciatore. La sua tessera apre la porta posteriore. Voi, con me. Voi. Ah, ma c'è l'ambasciatore ancora lì in mezzo. Si vuole! Te saluto. Sergio. L'ambasciatore ha fatto una finaccia. Grazie, bentornato. Grazie per i quattro. Guida Stacey al sicuro. Prendi la tessera dell'ambasciatore e vai alla porta. Ciao, lol. Cerca le telecamere sul soffitto per cambiare visuale. Sì, ma sbrigati. La facciamo avanzare? Che dite? Andiamola qua. Vai qua. Vai qua. Non metti. Nasconditi vicino a quel corpo. Dimmi dove. Sono solo un penalista. No, 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 no. Ops. Mi sa che c'era un tipo qui in basso a sinistra. Ah, eccolo là, il valordo. Allora, vai qua. Nasconditi vicino a quel carrello. Qualcun altro. Non ho qualcun altro. Io ho te. Tu. Tu non sei del mio paese. L'altro lato della scrivania. Va. Sì. Questa non è la tua terra. Va al corridoio. Ora. Non vedo. Mamma mia, che ansia. Nasconditi vicino alla porta. È tipo, è tipo Matrix. Vi ricordate la scena di Matrix? In cui c'è Morpheus che è... Qua, qua. Stai calma. Stai calma. Fammi fare. Oh, fuck. Dove la mando? Aspetta, Stasi. Io andrei lì. Non da lì, non da lì. È morta. No, è viva. Che culo. Sai che non ho capito lei dove deve andare? Qui? È morta, regà. Il prossimo cubicolo. Muoviti. Oddio. Oddio. Vieni qua. No, no. Si è girato. Si è girato. Fede. Si è girato. Sei quasi fuori. Andato. Raggiungi il cubicolo. Subito. Continua. Il prossimo. Il prossimo cubicolo. Muoviti. Aha. Ferma. Ferma. Ferma, eh. Spostati alla stampante. C'è una guardia che blocca l'uscita. Devi distrarla. Cosa devo fare? Il distruggi documenti. Bene, accendi. Ora dall'altro lato. Oh, sbrigati. Vabbè, però stesi è lenta, regà. Cioè, io ho spinto. Cioè, stesi è lenta. Cioè, è stato ucciso durante la fuga. Eh. Poi subito qua. Oh, brava così. Ush, ush. L'intelligenza dei terroristi. Ce sta, ce sta. Sì, è lenta. Oh, è vero. Possibile che i terroristi non tengono sott'occhio il retro? Dove è il complesso? Vicino. Dopo il vicolo oltre la strada. D'accordo, Kelly. Apri. Ecco. Grazie, sergente. Mi hai salvato la vita. Questa tessera può salvarci? Ok. Non ho qui. 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 Munizioni scarse. Ho preso un'arma scarica. Capirai. Un cecchino per strada. Non abbiamo qualcos'altro? Non fermarti, Kai. Ecco 3-1. Potete procedersi. Ricevuto. Arriviamo. Attenti a ogni movimento. Via. Qui non è sicuro. Non attaccherò. Non attaccherò. E ne veda, lube. Ci hanno scoperto. Riposizioniamoci. Subito. Ecco il complesso. Questo sta a guardare la partita. What? Cos'è sta roba? Bella Sergente Song. We did it, regà. Missione di salvataggio riuscita. Quasi. Un cecchino, eh. Ce l'ho già. Dobbiamo affrontare tutta la città. L'unico drone a portata deve rifornirsi. Può volare a lungo. Andano qui a... No, sono solo le cuffie, Fils. Alex Adair, a nord. Coprite quel tetto. Kyle Farah, con me. Ricevuto, capitale. Ok. Vitano Price. I marina hanno l'ambasciata sotto controllo. Niente in vista, signore. Torneranno. Dalla parte opposta. Come lo sai? È quello che farei io. Ha ragione. Riposizionatevi sul tetto. Sono pronto. Già vedo qualcuno là. Ma ho solo cinque colpi. Fai, fai, fai. Wait, wait. Datemi qualcos'altro. Posso usarlo, il mostaglio? Voglio una visuale su quel bar. A ore 12, il bar. Diverse possibili minacce. Disarmati. Teneteli d'occhio. Altri due. Fara. Sono messaggeri. Guardano verso di noi. Non mi piace. Teneteli d'occhio. Ci sono. Qualcosa li ha spaventati. Occhio a destra. Altri due. Scappano. Secondo me stanno per lanciarci qualcosa di grosso. Ehi, guarda quanti so. Posso sparare? Vengono verso di noi. Merda, non li vedo più. Alex. Tutto calmo. Un momento. Vedo del movimento nel campo. Ore 11. Dove? Negativo. È solo il vento. Tenete duro. Io faccio questo. È esplosa in aria. Mirano alle luci. Pronti all'ingaggio? Siamo al buro. Siamo. Alchi aperti. Lanciate un bengala. Li sorprenderemo grazie alla luce. Vai con l'illuminante. Fai luce per noi, Kyle. Io? Va bene. Aia. Ne serve un altro? Non si avvicina a nessuno. Qua è one shot, one kill. Non è vero. Liscio. Ma chi sparate? Non li vedo. Spara, uccidi, spara. Ci stanno un po' spingendo oltre, no? Andatevene a quel paese. Però è politically correct sotto il punto di vista del linguaggio. Cioè, uccidono bambini. Però, non si può dire vaffanculo. Dicono, vai al diavolo. Ciao, mind. Uccidono bambini. Urca. Ragazzi, ho tanti però, eh. Eh. Sono abbastanza tanti. Che posso fare io con un cecchino solo? Niente. Io scendo. No, scusa, ho sparato a capitano Bryce. Ho sparato a Fara. Spara da tutti. Munizioni scarse. Eh, vabbè. Ho questo. Ma li sto uccidendo con sto robo? E dai, stavo prendendo l'arpa per terra. Fuck. Ciao, pollo. Bella, raga. Niente. Sempre con 24 colpi sto, però. Non c'è niente per terra che io posso usare. Non c'è niente per terra che io posso usare. Ah. È un tiro al bersaglio. È un tiro al bersaglio. Nice. Uff. Eh, grazie, sì. Cosa abbiamo? Allora, mi cambio. Mi devo il cecchino. Che altro abbiamo? Un MP5. Oh, un bel puntatore laser. Mo' gli spariamo. I droni. Negativo. Difendiamo la posizione e così sopravviviamo. Rinunciamo. Forse dovremo. Bravo, ci serve subito un controllo. Arrivo. Setto. Ora. Movimenti. Fammi andare. Via. 06. Da fara, muoviti. Su, su, su. Su. Oh, ma te li sto indicando i bersagli. Centro. Oh. Io sto... Ah, perché quelli sono solo luci. Pensavo che erano le luci dei cecchini. Allora, niente, rip. Vai così. Bombardiamo tutti. Io pensavo che le luci lì sopra fossero i cecchini. Sì, sì. Lato est. Missile partito. Io un missile lì l'ho lanciato. Dov'è? A me non interessa. Sì, sì. C'era un'arma. Sì, sì. C'era un'arma. Liscio. Un po' più avanti. Dove, dove? Iscio. Un po' più avanti. Un po' più avanti. Un po' più avanti. Dove, dove? Ah, ma è un missile per un tipo. Ma questo supporto aereo non poteva arrivare subito. Posso. Occhio a scuola, ne vedo uno. Posto. Vedo dei movimenti. Contatto visivo. Ciao Sandro Bella Come è morto? Sgombra la casa Ah devo andare io? Va bene Mi dispiace se pulisco prima un po' da lontano Cover me Ma chi gats? Mamma mia Che danno Checkpoint Checkpoint Qual è la porta? Da dove? Intanto Ah si va vai Io intanto quello col mortaio l'ho fatto fuori A tir La due contro due No non l'ho ancora provata Caro Sandrino Un po' di brucio Bella Taci sua Aspetta 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 Che via di sopra Aspetta Aspetta Oh Fatto regà Fatto La miglior difesa è l'attacco Capitano Price c'hava ragione Oh merda Cazzo ho preso fuoco Eh Price che cosa stai facendo Aiaiaiaiaiaia Ma da dietro mi sparano Ciao Benny Bella Benny Bentornato grazie Capito ma che raggio c'ha Se esplosione L'hanno preso il lupo L'hanno preso Vedi sfondano Chi fa i muri Chi sfonde Il muro è il concetto del gioco Vero Barbo Il piano farà